qualche tempo fa sono stato a badalucco in provincia di imperia per visitare una delle bubble suite di bubble emotion ci troviamo all'interno dell'agriturismo le masce nel confluente che ha deciso di ospitare in un angolo della sua proprietà la bubble suite antares qui è stato ritagliato un angolino davvero stupendo tra alberi di ulivo ed eucalipto dove la bubble suite trova tutto il suo splendore fuori seppur la giornata non fosse delle migliori ho potuto sollezzarmi su di una bellissima maca e su delle comode sedie in legno un po come quelle che si vedono nei telefilm country americani l'interno della bubble suite è davvero ben curato come al solito in tutte le bubble suite si accede con il doppio ingresso che permette alla bolla di non sgonfiarsi la struttura è suddivisa in tre sottostrutture ognuna di queste di forma sferica si arriva incontrando quella che è la sala si prosegue in quella che è la camera da letto per finire nella piccola bolla adibita al bagno la cura dei dettagli è davvero massima e da subito ci si rende conto che niente è lasciato al caso devo ammettere che questa bubble suite a differenza di tante altre è anche davvero molto silenziosa il bagno seppur molto piccolo è funzionale al massimo ci sono tutti i prodotti per lavarsi e la cura del corpo per non farvi mancare niente viene fornita anche tutta la biancheria e per chi se lo stesse chiedendo si è garantita la massima privacy la bolla che ospita il bagno e la doccia è trasparente soltanto nella parte superiore insomma da oggi sapete che se abitate in liguria o un piemonte avete a pochi chilometri da voi una bellissima struttura dove poter prenotare un'esperienza unica in una bubble suite davvero fantastica iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto noi ci vediamo molto molto presto in una nuova avventura sempre qua sul canale